Buongiorno miei carissimi amici di investire in borsa a caccia di dividendi. Oggi parliamo di un'azione che negli ultimi 30 anni ha avuto un rendimento del 3.700% più tutti i dividendi distribuiti e adesso però si trova ai minimi o meglio vicino ai minimi dell'anno. Infatti se l'anno scorso aveva anche superato i 200 dollari per azione adesso siamo attorno ai 147 nel momento in cui sto facendo il video. Potrebbe essere il momento buono per entrare in questa splendida azione del dividendo. Un dividendo di circa il 3.5% lordo, un rapporto prezzo utili di 20, forward, alto ma non altissimo soprattutto se andiamo a vedere poi altri dati che vi farò vedere nel video e comunque ben coperto perché se il dividendo è di 5,20 dollari l'utile per azione è di 7,12, una capitalizzazione molto alta. 136 miliardi di dollari di capitalizzazione andiamo a vedere di chi si tratta. Si tratta di un'azione che ha un dividendo in aumento da 18 anni consecutivi, quindi fra poco potrebbe essere nella lista delle dividend aristocrats, un dividendo cresciuto del 13,80% in media negli ultimi 5 anni, un payout del 64%. Ovviamente il dividendo viene distribuito trimestralmente perché è una delle big americane. Ne ha parlato anche Davide Disidoro recentemente, questo è un altro piccolo indizio. Vi lascio un secondo per mettere il like e iscrivervi a investire in borsa a caccia di dividendi se non l'avete ancora fatto. Pensate che azienda è e ve lo dico io, si tratta di Texas Instruments. Magari molti di voi, come anch'io, legano Texas Instruments, i più vecchietti diciamo, alle calcolatrici scientifiche che c'erano una volta, che si usavano a scuola, non so se si usano ancora, adesso ci sono i computer, però Texas Instruments in realtà fa tanto tanto altro. È americana, con sede a Dallas in Texas e in particolar modo progetta e produce semiconduttori, circuiti integrati ed è una delle prime dieci aziende al mondo in questo settore. L'attenzione in particolar modo è rivolta allo sviluppo di chip analogici, processori embedded che rappresentano oltre l'80% delle sue entrate, inoltre 45.000 i brevetti in tutto il mondo. Ho provato ad analizzare Texas Instruments anche utilizzando Maxem, che è un Introducer Broker attraverso il quale io opero con il mio conto Interactive Broker. Tra l'altro, poi seguitemi fino alla fine perché vi dirò anche che ci sono interessanti promozioni per chi aderisce a Maxem, sponsor tra l'altro di questo video. Se desiderate cercare Texas Instruments dal portale Maxem, dal portale web, basta che digitate anche TXN, che è il ticker dell'azione, ovviamente quello quotato sul Nasdaq. Potete vedere diverse caratteristiche dell'azienda, ad esempio il rapporto prezzo-utili, dati finanziari come le revenue, come il net income, come il net profit margin, confrontarlo anche con gli anni precedenti e anche vedere quali sono le previsioni degli utili dei prossimi anni. Altri dati che potete vedere, utili per azione e anche previsioni sul net income, sul gross margin, che rimane bello solido oltre il 70%, 60%, 70%, insomma molto importante. Poi ancora il dividend per share, in continuo aumento da 18 anni consecutivi, l'abbiamo visto, il cash flow per share, che supera il dividendo, 2,11 contro 1,24. Poi ad esempio gli earnings gap e tanti tanti altri dati. Maxem, per chi non lo conoscesse, è stata fondata nel 2018 e condivide 25 anni di esperienza nel settore finanziario. Agisce in qualità di introducing broker di Interactive e consente l'accesso a diversi mercati finanziari e a prodotti come azioni, ETF, obbligazioni. E inoltre dà la possibilità di accedere a 30.000 prodotti e più su 150 mercati in 35 paesi e in 23 valute c'è la possibilità di anche operare in azioni frazionate c'è un supporto multilingue, ovviamente a noi interessa l'italiano e trovate tra l'altro anche dei tutorial sul mio canale YouTube per operare sull'app, sulla piattaforma web o sulla TVS che è per i veri trader. Dall'accesso a azioni, opzioni, futures, warrant, valute, ETF, obbligazioni e la promozione fino alla fine dell'anno con un versamento di almeno 2.000 euro sul conto che potete avere accedendo a Maxem tramite il link che trovate in descrizione prevede l'elaborato fiscale gratuito per due anni oppure un listino commissionale agevolato ovviamente per tutti c'è l'assistenza in italiano anche via Whatsapp se volete parlavamo del dividend yield che attualmente è di circa il 3,5 ed è vicino ai massimi storici questo perché l'azione è un pochino scesa ma anche perché il dividendo è aumentato e pensate che per chi avesse comprato 30 anni fa il dividend yield on cost sarebbe superiore al 100% il dividendo è aumentato da 1,07 annuali del 2013 ai 5,20 attuali quindi in una decina di anni il dividendo è aumentato all'incirca di 5 anni riuscirà a tenere questo ritmo? non si sa ma le premesse sono buone il payout, l'abbiamo detto, è attorno al 64% quindi rapporto sostenibile anche in futuro negli ultimi 5 anni siamo sempre rimasti in un range tra il 45 e il 65% molto bene possiamo vedere anche la situazione dei dividendi e di altri dati confrontati con azioni comparabili come Qualcomm come Intel, come AMD, come Analog Device e come Micron per quanto riguarda il dividend yield siamo ai massimi 3,5 non ci arriva nessuna di queste altre azioni e anche come dividend yield medio degli ultimi anni solo Intel l'ha avuto più alto ma ha recentemente tagliato il dividendo il payout ratio del 63% ok, Qualcomm fa meglio un 36% però anche il dividendo più basso e stessa cosa Analog Device un 30% di payout però dividendo del 2% contro il 3,5% per quanto riguarda il gross margin è molto elevato per Texas Instruments il 64% e soltanto Analog Device è su livelli simili con un 65% neanche Qualcomm arriva a tanto guardando un pochino su QuickFS alcuni dati possiamo vedere il rapporto prezzo utile attorno a 20% eccezionali possiamo dire ROA, ROE e ROIC medio negli ultimi 10 anni rispettivamente 25, 45, 30% utile per azione in crescita della media del 20% negli ultimi 10 anni free cash flow in aumento del 7% mediamente rapporto debito equity di 0,5% quindi anche l'inebitamento è molto contenuto e un ROIC che, ok, medio è del 30% ma attenzione perché siamo passati dal 13% di 10 anni fa all'attuale 38% con una crescita quasi anno per anno molto molto interessante un gross margin che è alto ma era già alto 10 anni fa 52% è addirittura migliorato un operating margin del 52% in aumento anch'esso e un dividendo l'abbiamo visto che cresce in maniera esponenziale parlavamo anche di max e delle opzioni per chi volesse c'è la possibilità anche di entrare o comunque di operare con le opzioni settimanali addirittura su Texas Instruments ovviamente ricordiamo che con le opzioni bisogna muovere 100 azioni alla volta all'otto e chiaramente su un prezzo così alto diventa un controvalore di circa 14.000 dollari non è poco non è poco però per chi volesse comprare ad esempio 100 azioni di Texas Instruments potrebbe farlo entrando direttamente al mercato oppure magari vendendo una put sperando ovviamente in un piccolo ribasso ad esempio vendendo la put a un mese al 15 di dicembre dell'anno prossimo con un prezzo di 145 e il prezzo di Texas Instruments mentre sto facendo il video è di 146,40 andremo a incassare 320 dollari e poi chiaramente se il prezzo scendesse sotto 145 allora saremmo assegnati con 100 azioni se invece l'azione dovesse restare sopra i 145 dollari niente noi non compriamo l'azione ma ci teniamo i nostri 320 dollari che non sarebbe comunque neanche da buttare via poi qui ci sono altri strike ovviamente più basso è lo strike minore è il mio guadagno e più alto è lo strike maggiore il mio guadagno se poi io avessi comprato 100 azioni e volessi vendere delle call per aumentare il reddito oltre ai dividendi anche in questo caso diciamo in questo caso facciamo il discorso inverso perché io mi impegno a vendere l'azione se il prezzo salisse sopra lo strike e chiaramente se io dico mi impegno a vendere a 155 dollari al 15 di dicembre è in caso 127 dollari ma mi potrei trovare nella condizione di dover vendere l'azione ok poi eventualmente se c'è qualcosa di non chiaro possiamo approfondire direi che per questo video su Texas Instruments siamo giunti alla fine se avete delle domande riguardo all'azione chiedetemelo pure nei commenti voi vi chiederete ma tu l'hai comprato allora mi dico al momento in cui sto facendo il video ancora non l'ho comprato ma è una di quelle azioni che è nella mia watchlist ed è veramente molto molto interessante ricordo sempre la promozione per chi volesse aderire a Maxem fino alla fine dell'anno anche chi ha Interactive Broker può farlo eventualmente e poi cliccate sul link e mi potete anche chiedere le istruzioni su come fare vi metterò direttamente in collegamento con Maxem per avere comunque questo bonus direi che per oggi abbiamo finito un saluto a tutti da Lorenzo a presto e ciao in Ciao Grazie a tutti.